Alla sera, dopo aver girato X-Factor, alle due di notte e... Ti sto ancora aspettando sveglia, se vuoi. Stiamo andando a fare shopping. Lui fa shopping, io guardo. Ma come tu guardi? Lui fa il biccone. Non hai messo quel bellissimo cappello rosa? Perché stava bene, però poi non lo so. Non c'era il contesto giusto. Sono una pittrice. Guarda che bello, però guarda il mio look. Sì, immaginatela adesso con un cappello rosa da pittone, frangibile. E tutta mela? Zampa. No. Ma in Messico dove vai? Oh, mi eravate mancati. Mi eravate mancati. Allora, sto provando dei vestiti, tra cui una pelliccia rosa. Quella è mia? E ho questo maglioncino bello, che sembra un po' un galeotto.